Telemaco raccontato da Giovanni Nucci nella riscrittura dell'Odissea, il titolo è Ulisse, il mare colore del vino. I racconti della mitologia sono dei racconti meravigliosi, non credo che ci siano racconti più belli e in un momento come questo, dove siamo assediati dalla cronaca, dai fatti contingenti, credo che affidarci, affidare le nostre letture, il nostro pensiero, ai miti, alla mitologia in generale, a quella che possiamo definire una letteratura dello spirito, credo che sia sempre necessario, ma credo che in questo momento sia fondamentale. Adesso basta. Il principe aveva deciso che non si poteva più andare avanti in quel modo, con i proci che continuavano a mangiarsi ogni loro bene, fine. Ma finché Penelope non finiva la sua tele e non prendeva una decisione, i pretendenti sarebbero rimasti. Così Telemaco aveva detto a sua madre che era arrivato il momento di sposarsi, doveva scegliere uno dei pretendenti e gli altri se ne sarebbero finalmente andati. Penelope davvero non era sicura di aver capito che cosa avesse in mente suo figlio. E poi, da che era tornato dal suo viaggio, sembrava cambiato, era in qualche modo cresciuto, adesso era più coraggioso e più determinato, ma a Penelope sembrò che Telemaco fosse diventato anche un po' più cattivo, anche se magari era solo un'impressione. Certo, per Telemaco non doveva essere stato facile passare la vita ad aspettare. Aspettare il padre, voglio dire. Anche se è vero che tutti i bambini in qualche modo aspettano il ritorno del proprio padre. magari non aspettano per vent'anni, ma per lunghi pomeriggi o per qualche settimana, perché ogni padre prima o poi parte e va a fare un lungo viaggio, o semplicemente se ne sta in una stanza in cui non si può entrare e i figli finiscono per non vederlo un granché e aspettano. Questo fino a quando non arriva il momento in cui devono diventare grandi e andarlo a cercare, il padre, per raggiungerlo in qualche luogo lontano, o farsi coraggio, andare in quella stanza, bussare ed entrare nel mondo. Ad un certo punto ad Itaca era arrivato questo nuovo insegnante, un altro precettore per Telemaco, e non era chiaro se lo avesse mandato a chiamare Penelope o cosa, ma quello era arrivato. In effetti Telemaco ultimamente era rimasto un po' indietro con gli studi. Non si applicava, difficilmente arrivava al mattino con tutti i compiti fatti, e per lo più non riusciva a concentrarsi. E questo nuovo precettore, invece, sembrava funzionare bene, e anche Penelope ne era contenta. Adesso Telemaco si impegnava di più, e forse quello lo aveva preso per il verso giusto, e lo aveva a suo modo appassionato alla storia, alla poesia, al teatro, alla musica. Gli insegnava le meraviglie della matematica, la meccanica dei pianeti, le sconfinate distese del pensiero che possono spalancarsi con la riflessione e con il ragionamento. Finché un giorno, e quel giorno il precettore sembrava particolarmente risoluto, gli spiegò la storia di un principe. In effetti più che raccontargiela, gliela stava spiegando. Il padre del principe, il re, era stato ucciso dal fratello per prenderne il posto, ma naturalmente questo non lo sapeva nessuno, e comunque il nuovo re, il fratello di suo padre, adesso aveva anche sposato la regina, sua madre, e stava portando l'intero regno a perdersi nella corruzione, nello spreco e nella lussuria. Il principe certo soffriva per la morte del padre, per il nuovo e rapidissimo matrimonio della madre con lo zio, perché sentiva che qualcosa lo stava andando come avrebbe dovuto, ma non capiva bene perché, come se non vedesse abbastanza chiaramente che cosa stava succedendo, finché non gli apparve lo spirito di suo padre, per spiegargli la verità e spingerlo alla vendetta. A quel punto il principe che cosa ha fatto? domandò Telemaco che cominciava a sentirsi in ansia. Non sapeva che cosa fare, rispose il precettore. Non era facile decidere, soprattutto non era facile riconoscere lo spirito di suo padre. Telemaco non riusciva a capire. Era il padre che gli parlava o era lui che parlava a se stesso? O forse, aggiunse il precettore, il principe sperava che il padre non fosse morto e per questo si immaginava uno spettro che riparlava in piena notte dai bastioni del palazzo reale. Il principe non riusciva a capire e più si poneva a quella domanda sono io o è mio padre e più pensava di impazzire. Telemaco adesso, se è possibile, era ancora più confuso. Qual è la risposta? domandò. Di chi era quello spirito? Del principe o di suo padre? E alla fine che cosa fece il principe? Vendicò suo padre? Uccise chi stava cercando di usurpare il trono? Salvò sua madre? Il precettore lo guardò sorridendo, con gli occhi che scintillando sembravano gli occhi della dea, ma non disse nient'altro. Ed è per questo che Telemaco era partito e aveva cominciato a girare per il mar Mediterraneo chiedendo notizie di Ulisse per capire chi era suo padre, il re di Itaca. Ed è così che si diventa grandi, cercando di capire come è stato un re e finendo di capire come dovrà essere il principe. Telemaco in quegli ultimi mesi aveva navigato cercando di capire tutto ciò e di che colore si riflette la luce nel mare colore del vino.